finalmente ci siamo la presentazione al teatro naselli della prima del film che noi abbiamo seguito come canale 74 come ti senti beh anche se tanti anni che lo faccio comunque l'emozione c'è sempre c'è sempre perché sono in un posto meraviglioso dove sono stato sono ospite quindi questa è una cosa molto bella e soprattutto circondato dalla mia troupe dagli attori e dalle persone che mi stimano e mi vogliono bene quindi momento importante la prima in assoluto è questa ma ci sarà un'altra prima vittoria allora il giorno 26 ma qui do una chicca perché in contemporanea con la multisala cineplex di macerata stesso giorno stessa data e poi a fine marzo anche a torino e mi hanno invitato anche a monte carlo per la presentazione del film mi ricordo che dicevi che era pronta anche la distribuzione in cina non sbaglio sì infatti sto aspettando dal 10 al 16 di aprile che come sappiamo c'è il mercato estero a can dove ho appuntamento con la iq film international che si occuperà di acquisire il prodotto e distribuirlo sul territorio cinese per territorio cinese intendiamo la provincia dell'hubei perché la cina è molto grande e quindi insomma noi fa 60 milioni quindi quella provincia lì per noi è una grande soddisfazione avete già in previsione di partecipare a qualche concorso il film è già stato iscritto al locarno film festival insieme a un cortometraggio quindi che il locarno film festival è dal 14 al 18 di agosto festival internazionale molto importante il film sarà sottotitolato in inglese cosa che faremo al più presto prima di andare alla vendita canna quindi penso fra una decina di giorni di avere pronto anche la sottotitolatura come si dice nel mondo del cinema anzi che dire in bocca al lupo dice merda 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 però vorrei salutare se mi è possibile il mio assistente socio victor daniel video che qui vieni così facciamo vedere il mio ufficio stampa concetto occhi pinti e soprattutto filippo vitale che mi ha permesso di poter venire a girare in sicilia e a comiso